No, non andare, ti prego! Cosa fai? Sto aprendo il cocomero con la sola imposizione delle mani. Hai visto che è preciso? Allora, adesso prepariamo il primo cocomero della stagione per tutti i pazienti, meno che Iana. Non è vero, invece io lo prendo il mio e lo mangio tutto, tutto. Buono? Buono. È troppo veloce. Però si è anche ripreso. Oh, che perdiamo l'aereo, ragazzi. Gianji, è partito l'aereo. Va bene. Buongiorno. Ciao, sai che ti chiamano? Ancora sei lì tu. Eccoci. Eccoci. Dove stai andando? Vieni con noi. La portiera, lo chiudo io, lo chiudo io, ok? A lei cosa mancherà? Niente. È perfetto. Come niente? È perfetto la mia bocca. Quasi. Filmo il salto? Salti? Ah, sì. Oh, sì. Ah! 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 No, non andare, ti prego. No, non andare, ti prego. Dai, smetendo. Fate buon viaggio. Grazie. Dai, fatti vedere. Guardami. Ci prendiamo. Ah, ci prendiamo un po'. Ciao. 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 No, no, no. E' pure in diretta. Non è in diretta. Ma perché mi vedono uguali? Gli altri. Oh la la. Alla. Fatto. Adesso fallo tu? No, no, io non ce la farò. Mi dica? No, no. Se vuoi venire con un giro massimo. Sì. È proprio lato. È una cosa positiva, penso, per tutti. Ma sì. È una cosa bella. 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 Mi dim зайce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.